Proseguono le visite guidate alla Chiesa di San Bartolomeo con eventi di accompagnamento di sicuro interesse e spessore. All'architetto Benvia Cervis, incaricato dell'organizzazione di questi eventi, chiediamo qual è il prossimo appuntamento. L'appuntamento come sempre è sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 in San Bartolomeo e sabato 7 luglio. Sottolineata la data, che è importante perché così abbiamo una notificazione più generale, vediamo qual è l'evento di accompagnamento che abbiamo questo sabato. È davvero eccezionale per il tema, perché sono giovani, perché c'è la qualità, perché c'è l'intelligenza, perché davvero noi anziani verremo meravigliati dalla loro capacità. Qual è il tema? Il tema è Pradale, villaggio dimenticato. Una tesi di laurea fatta dai nuovi architetti, da due nuovi architetti, Indiagotti e Marco Gualandris, che sono albinesi, si sono interessati alla progettazione di un villaggio dimenticato che si trova sulla strada da Albino verso Ama. Questo villaggio dimenticato ha ormai soltanto le radici. Qual è la qualità della tesi? E che sono riusciti attraverso la conoscenza della qualità delle radici interessarsi ai nuovi frutti. Questo è il tema dell'architettura moderna in Italia, il tema che deve partire dalla storia, ma non soltanto guardare la storia per restaurarla, per migliorarla, ma guardare anche ai temi nuovi e alle forme nuove che sono dell'architettura. Una cosa bellissima per quanto riguarda proprio il progresso di questo tipo di situazione è la teoria delle 5R. Noi, vecchi architetti, sappiamo che già le Corbusier aveva un problema di regole e non di regolamenti. I giovani ci prospettano. Riduci, ricicla, ricostruisci, ristruttura, restaura. Sono 5 temi emozionanti e loro li hanno saputi tradurre in forme architettoniche. Qual è questo villaggio dimenticato? Il villaggio dimenticato nel 1400 la contrada del comune maggiore di Albino aveva un piccolo villaggio vicino ad Ama. Voi immaginate qual era la fatica quotidiana, perché allora a messa si andava quotidianamente, di scendere con le scarpe. Se avevano le scarpe ci volevano scarpe grosse e grande fede per scendere tutte le mattine da Pradale fino ad Albino e poi ritornare per avere poi l'attività dei campi o le donne e l'attività della famiglia. Abbiamo il piacere di avere con noi i due artefici di questo villaggio dimenticato, che sono gli architetti Marco Gualandris e India Gotti. Da Marco Gualandris vogliamo sapere come avete realizzato questo importante progetto? Dunque abbiamo realizzato questo progetto partendo dallo studio di alcuni casi, italiani e non, in cui abbiamo individuato delle analogie tra i contesti storici, ovvero abbiamo individuato dei paesini sparsi sulle Alpi principalmente, dove altri architetti avevano già attuato opere di riqualificazione e quindi abbiamo cercato di proporre delle linee guida per un possibile futuro intervento per quanto riguarda il villaggio abbandonato di Pradale. Non possiamo non sentire anche India Gotti, anche lei ha contribuito a questo progetto, come? Allora, dopo aver analizzato questi casi abbiamo utilizzato questa teoria delle 5R cercando di applicarla in modo concreto su questo paesino dimenticato. Abbiamo cercato di mantenere le radici appunto e creare invece una nuova parte da inserire all'interno di questi ruderi, possiamo dire.